condizionale. Ok. Iniziamo mettendo la dichiarazione delle mie variabili. Mi servirà una variabile contatore che dichiarerò di tipo intero. Poi mi servirà utilizzare il mio mentre. Allora come funziona il mentre? Allora qui metterò la condizione sulla quale io voglio iterare. Continuerò a iterare fino a quando questa condizione sarà vera. E qui specificherò quando contatore fin quando contatore è minore di 3 allora io continuerò a iterare. Il mio contatore prima del ciclo lo devo inizializzare. Lo inizializzerò con il valore 0. Per inizializzarlo metterò questa istruzione di assegnazione dove metterò che il mio contatore al mio contatore assegno il valore 0. Perfetto. Quindi all'inizio il mio contatore che è intero sarà inizializzato con il valore 0. Quindi quando continuerò a iterare continuerò a iterare finché il contatore è minore di 3. Quindi per l'iterazione 0, 1, 2. Quando contatore sarà uguale a 3 io esco. Quindi per 3 volte. Perfetto. Allora e qui che cosa specifico? La scrittura. Scrivo quindi inserisco qua l'espressione che voglio stampare e sarà il numero oppure senza il numero stamperò direttamente il valore del mio contatore. Ok. Quindi in questo caso scusate specifichiamo che i numeri sono fino a 3 e non fino a 10. Perfetto. A questo punto se io vado ad eseguire il mio programma cliccando qui vedete che dopo l'esecuzione di questo programma vediamo che non esce dal ciclo. Perché? Perché il valore del contatore lo inizializzo a 0 ma non lo incremento mai. Per incrementarlo devo aggiungere un'istruzione. Un'istruzione ancora di assegnazione che metterò qua. Doppio clic e dirò guarda che la mia variabile contatore vale che cosa? Vale contatore più 1. Quindi la prima volta sarà 0, la seconda 1 e così via. Allora andiamo ad eseguire il nostro programma. A questo punto possiamo vedere che viene visualizzato il valore di 1, 2 e 3 e che qui il nostro ciclo funziona. La prima volta entra lo incrementa e ogni volta lo visualizza. Lo visualizza sullo schermo.